Il Teramo sarà di scena domenica al Braglia di Modena con l'obiettivo di trovare la prima rete e il primo successo. L'impresa è complicata perché il diavolo avrà di fronte un avversario costruito per vincere, ma ancora secco di vittorie nelle prime due giornate in cui ha raccolto due pareggi contro Grosseto e Reggiana. In casa Teramo si sta ragionando se rinunciare al minutaggio e magari dare spazio ai elementi più esperti della Rosa, come per esempio Rossetti. Se Guidi lo riterrà pronto, potrebbe schierarlo al posto di Viero. confermando per il resto lo stesso Undici. L'alternativa sarebbe schierare contemporaneamente Rossetti a centrocampo e mandare in campo uno tra Trasciani o Buà in difesa al posto di Soprano o Adis Osmanovic. Questo per il discorso del minutaggio. Chiere Matenga ha proseguito in settimana nel lavoro a parte e sarà convocato, ma molto probabilmente partirà ancora dalla panchina. L'atmosfera del Braglia si annuncia calda. Ai tifosi di casa, che acquisteranno il biglietto per la sfida di domenica, basterà aggiungere un euro per avere un altro valido anche per la gara di Coppa Italia contro Limolese. Nella formazione di Attilio Tesser sarà probabilmente ancora out il tersino sinistro Renzetti. Dubbi per l'altro esterno basso, l'ex Pescara Ciofani, sempre in difesa, Silvestri e in fase di recupero. Tesser dovrebbe tendenzialmente governare l'undici visto lunedì sera contro la Reggiana, con Tremolada alle spalle di Ogunzei e Marotta. A dirigere la sfida del Braglia sarà Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto.